Ciao creatura Io sono Eka Desplendente e benvenuta o bentornata nel regno di Guzai E-S-M-A 7 ottobre 7 ottobre data mi sembra una buona data per iniziare i nostri video di Halloween ottobre uguale Halloween per Eka Desplendente anche se tutta la vita uguale Halloween ma dettagli comunque per ottobre come avevo già anticipato mi sarebbe piaciuto fare tutti i video a tema autunno o Halloween proviamoci io ci provo intanto sto partendo bene mi dicono ok questa sera come primo video di Halloween voglio portarti una ricetta una ricetta dolce tema Halloween già puoi immaginare ma forse già ho spoilerato qualcosa dal titolo o dall'immagine copertina probabilmente sì ancora non lo so vi racconto come ho ideato questa ricetta sono partita con tutta questa serie di ragionamenti ovvero avevo visto un video di Chiara D'Alessandro ancora un tempo fa dove mostrava questa crema che stai vedendo che è dell'MD e nei video lei e suo marito dicevano che si assomigliava molto alla crema che c'è all'interno dei Kinder Bueno allora io ho detto io adoro l'interno dei Kinder Bueno devo assaggiarla e dato che l'MD c'è nel mio paese allora sono andata a cercarla come crema spalmabile è molto cara per essere una crema spalmabile di sottomarca o una marca che comunque non è famosa e per essere in un negozio come l'MD che è comunque un discount che all'epoca una volta si chiamava LD da non confondere con Lidl che sono due cose completamente diverse adesso è diventato OMD e ho detto cavolo costicchia però effettivamente poi l'ho assaggiata e ne vale la pena insomma ok gli spendi volentieri quei soldi però ha tipo un piccolo difetto che è molto molto ehm cremosa liquida molto liquida però è molto buona e dato che è molto buona ehm rischiavo di mangiarla così a cucchiaiate da quanto è buona ricorda molto la crema all'interno dei Kinder Bueno ma allo stesso tempo mi ricorda molto anche la ehm il gusto dei Kinder Joy che erano anticamente conosciuti come Kinder Merendero ma evidentemente ehm Kinder Merendero era un brutto nome non lo so perchè poi adesso sono evoluti in Kinder Joy che sono la stessa cosa però è il nome più figo mi ricorda il Kinder Joy e il Kinder Bueno non so bene come spiegarlo però è buonissimo credo che sia grassissima e probabilmente piena di zucchero e olivari perchè è molto molto liquida vabbè ogni tanto ci sta non è mi veniva la tentazione estrema di mangiarla a cucchiaiate così molto più buona della Nutella l'ho detto creatura l'ho detto ero linciata per questo appunto non volevo rischiare di mangiarmela così perchè poi mi sarei sentita troppo in colpa e non è giusto quindi ho pensato come utilizzarla e mi sarebbe piaciuto tantissimo farciarci dei muffin quindi partiamo da questo presupposto e poi guardando in casa mi sono reso conto resa conto che avevo degli stampini stupendi che mi ha regalato il socio tutto a fare a forma di teschio sarebbero stampi per fare il ghiaccio però non sono né minuscoli né grandissimi né grandi io ogni Halloween cerco degli stampini in silicone a forma di teschio e a forma non so di pipistrello di gatto nero di zucca di Halloween non li ho mai trovati so che li vendevano tipo al Tiger al Lidl non li ho mai trovati io invece e quindi non ho mai potuto acquistare e mi è rimasto qua questa cosa perché volevo fare molte ricettine di queste forme per Halloween che per me andrebbero bene tutto l'anno però diciamo per Halloween creatura che vuoi che ti dica non li ho mai trovati e allora mi è venuto in mente appunto di avere questi che ho utilizzato solo quest'estate per farmi i ghiaccetti e allora ho detto idea geniale faccio dei muffin tipo un boccone via perché sono letteralmente grandi così quindi troppo grandi per il ghiaccio troppo piccoli per uno snack invece no è qui che ti sbagli creatura sono perfetti perché sono o due morsi o direttamente un unico tutto mangiato così tutto in un boccone ecco un boccone un boccone un boccone la prima cosa che ho fatto è stata cercare una ricetta per i muffin ripieni io li facevo tanto tempo fa con la nutella dentro però mi piace anche cioè non mi segno sempre le ricette e se non le imparo a memoria vado spesso a ricercare nuove ricette su youtube e ho trovato questa ricetta comunque ti lascio creatura nell'info box il link della ricetta così se vuoi andare a provarla anche tu vedi proprio gli ingredienti precisi io ovviamente come al solito l'ho cambiata sia in base agli ingredienti che avevo a casa e sia in base anche agli stampi perché questi essendo molto piccoli ho dimezzato le dosi e sono venute no no spoiler perfetto la dose era quella e ho semplicemente dimezzato le dosi e al posto dell'olio ho messo il burro perché i dolci io preferisco farli con il burro però appunto se sei vegano ci metti quello che vuoi insomma a me i dolci personalmente piacciono di più col burro essendo onnivora posso permettermi qualsiasi cosa e fin qua ho detto ok ho gli stampi perfetti ho la crema da mettere all'interno ho la ricetta procediamo come prima cosa la crema essendo troppo troppo liquida mi è venuta l'idea di utilizzare questo stampo anch'esso per i chiaccioli chiaccio che ha verrebbero dei quadratini di chiaccio no e ho deciso di inserirci all'interno la crema da far congelare che così nella mia idea era più facile avere già tutte le queste mini dosi questi quadratini di crema ghiacciata da inserire poi nell'impasto all'interno degli stampini per avere ogni teschetto farcito nella stessa maniera dell'altro insomma per essere perché non sono neanche un po' pignola per essere più preciso possibile mi piaceva questa idea quindi ho riempito appunto lo stampo della quantità dei teschi che sarebbero usciti l'ho un po' spattasciato spattucchiato come si dice sul tavolo per livellarlo e l'ho inserito nel freezer nel frattempo ho aggiunto il latte non mi ricordo la quantità però se andate a vedere il video della ricetta calcolate metà però voi fate in base alla dimensione del vostro stampo ho convertito l'olio col burro sono 125 grammi di burro che ho fatto sciogliere ho l'ho unito al latte e poi un uovo ho aggiunto lo zucchero 50 grammi in 90 grammi di farina ho messo mezza bustina di lievito per dolci e ho schiaffato tutto dentro mescolato e è venuta una una bella cioè è venuto giusto secondo me come nel video poi ho messo tutto dentro all'interno degli stampini che se sono un po' bagnati è perché li ho appena puliti ho tirato fuori la crema di nocciola dal freezer e si come tecnico mi piace ma in realtà poi assaggiandoli ti dirò che la prossima volta proverò in modo molto più semplice prendere direttamente tutto il barattolo di crema e inserirlo nel frigo e tenerlo libero 2-3 ore per far diventare la crema più densa e poi metterò una quantità random all'interno anche se saranno tutti diversi però alla fine ne voglio mettere di più perché quella quantità lì quei quadratini lì erano troppo pochi troppo poco come quantità di crema e quando si andava a mangiare il muffin non era farcito come avrei voluto ok? quindi si sentiva appena la crema io volevo che fosse molto più corposo quindi la prossima volta andrò a fare in modo diverso mi è venuto in mente se non avessi avuto quella crema lì buonissima sarebbe stato molto bello metterci qualche confettura rossa che simulasse tipo il sangue visto che siamo ad Halloween e che è un teschio mi piaceva mi piaceva l'idea dato che avevo avanzato un po' di impasto ho deciso di trasferirlo dentro due pirottini per fare due muffin e ho messo la confettura di Amarine che è rosso sangue quindi anche l'idea di metterci la confettura mi piaceva però l'idea di mangiare quell'altra crema mi piaceva di più quindi se proprio si può non so magari colorare la crema di rosso però sono solo coloranti in più inutili quindi va bene così se vuoi un effetto ancora più wow magari mettici la confettura che fa più scena poi è infornato e alla fine ho fatto scopriamo i muffin insieme le creazioni di muffin di Halloween e sono venuti bellissimi cioè sono perfetti cioè quasi dispiaceva mangiarli perché sono venuti davvero benissimo quindi io mi auto approvo questa ricetta di Halloween e mi viene mi sorge spontaneo la voglia di crearne sempre con gli stampini però una versione salata ma non con 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 l'impasto dei muffin tipo dei muffin salati mi sembrano così banali vorrei provare a fare tipo l'impasto della pizza schiaffarlo dentro e farcirlo con pomodoro e mozzarella richiudere il tutto e sperare che li eviti mantenendo la forma quindi se vuoi che proviamo insieme questa ricetta salata di pizza teschio fatto in casa e fammelo sapere con un commento un like però mi raccomando non lasciare solo il like lasciami anche il commento così so che non è un like solo di gradimento ma anche di sì vogliamo sperimentare con te sono buonissimi sicuramente posso modificare qualcosa per renderli perfetti perché non sono perfetti ma sicuramente anche tu con questi suggerimenti potrai provare a farli gli stampi non ho idea di dove siano stati acquistati ma secondo me essendo per il ghiaccio li puoi trovare su Amazon o su Aliexpress comunque io li cercherò su Amazon e se li trovo ti metto il link nell'info box del video e spero che questo video ti abbia rilassato e ti sia piaciuto e se proverai a rifarli se metti la foto su Instagram taggami perché mi piacerebbe molto vedere le tue creazioni e niente io ti auguro buonanotte un relax ciao creatura buonanotte buonanotte qui è qui è è qui